Ci spostiamo ora a Napoli, sono le immagini che arrivano da lì in diretta dal porto dove da poco, intorno alle 14.30 è attraccata la nave dell'ONGCI4 con a bordo oltre 100 migranti. Abbiamo raccolto le parole del prefetto di Napoli, ascoltiamole. Sono 106 di cui abbiamo 32 e 22 minori stranieri non accompagnati. Anche su loro ovviamente verrà fatto prima uno screening sanitario e poi verranno portati temporaneamente per 24 ore all'ospedale del mare per poi essere trasferiti in quella struttura che è stata individuata, d'intesa con il comune a Miano dove appunto sosterranno per un po' di giorni per poi essere distribuiti, essere diciamo collocati nella rete SAI.